salve ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono frangland a 3 oggi siamo in compagnia di mio zio saluta ciao ciao comunque ragazzi e abbiamo scoperto finalmente il problema del computer non riconosce più la scheda grafica ecco non riconosce più la scheda la nvidia gfroos non riconosce più la natura che vi faccio vedere questa qui come se non ci fossimo se questa qui non c'è impostazioni predefinite pulsante abilità lettura dell'interfaccia utente alterna raga impostazioni predefinite ci vedremo fra poco raga ok è un bel casino non riconosce più la scheda grafica zio tu ci vuoi dire qualcos'altro no è un problema grande raga comunque vi ricordate quando io premia volta z che si scuriva lo schermo e compariva quella schermata gfroos experience dove ho praticamente fatto i video con minecraft vi ricordate si e adesso praticamente non compare più raga comunque voi voi ragazzi a casa spero che vi ricordate quando io premia volta z che compareva quella schermata vi ricordate spero che si dopo riguarderò un po' di i miei video però raga e non compare più adesso ma gli obiettivi no che sono gli obiettivi del gioco visti e non è così che si stanno inventando copia raga raga io non so che problema grave quando sperimentiamo vediamo che succede ok niente non l'ho detto ci vedremo fra poco raga stavendo nell'imbostazione un poco ma con la schermata non compare vediamo raga succede ci potrebbe essere un problema grave che non riconosce la scheda zio tu cos'altro ci vuoi dire non lo riconosce più perché è un collegamento pesce si essendo con tu non devi aprire il collegamento e allora proviamo a spegnere nella lala di lato di lato perché tenderebbe xbox e voglio vedere un altro box ce l'ho nel salone io fanno di quali 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 sono nati di quali labbra 18 18 zio premi la notifica brava siamo in guai qua quali sei previs arresto riavvia riavvia stiamo riavviando il comitato allora zio che può essere lo stiamo riavviando per vedere se una scheda madre se riesce a leggere la scheda grafica non c'è connessione tra il pc e la scheda adesso lo riavviamo e capiamo un attimo altrimenti bisogna chiamare il tecnico non c'è altra soluzione no perché la cosa brutta è che la scheda è stata mondata totalmente a parte quando mi hanno cozzinato il computer la scheda non c'era ho dovuto mettere a parte raga vi ricordate che ci ho fatto pure il video però che abbiamo bisogna capire perché mo non la legge questo è quella gtx 1050 ma non è che sono non è che le gtx sono male sono buone le rtx no sono lo stesso e raga io non so raga ci vedremo fra poco appena angeli stiamo vediamo angeli che ci vedremo fra poco prima usciva questa qua e stamattina è uscita raga si è scurito di nuovo ma dovrebbe dire che non supporta la scheda vediamo il computer si è acceso raga raga lo vedete ci sono le impostazioni però vuole perché è tutto nero ecco questo qua proprio non mi piace ma tu hai cambiato lo schermo si questo schermo non va bene secondo me dobbiamo ricambiare schermo devo ricambiare schermo perché non c'è collegamento tra schermo cioè c'è l'hdmi e questo qua è una televisione con l'hdmi prova prova a ria a avviare minecraft mojong minecraft di nuovo spotify sotto eh dovrebbe dire te lo dovrebbe dire fra poco ma manco ma ma nemmeno minecraft parte raga ci vedremo tra poco raga raga dobbiamo di nuovo invertire gli schermi forse niente non l'ha detto non l'ha detto però zio prova a ripremere alt alt z non l'ha detto non l'ha detto niente raga niente niente raga non l'ha detto non l'ha detto proviamo a ricambiare schermo si raga ci vedremo tra poco appena avrò ricambiato raga ora dobbiamo invertire gli schermi tra poco raga ora sta arrivando il mio zio che c'è un attimo mandato in salone ora riviene e ricambiamo gli schermi raga ok abbiamo chiuso gli schermi raga stiamo staccando tutti i cavi fra poco raga abbiamo dato lo schermo ci vediamo fra poco raga ok abbiamo ricollegato i due schermi ok raga stiamo abbiamo invertito gli schermi vediamo ok raga vediamo raga adesso appena il gioco copia aspetta ci vediamo fra poco raga stessa storia raga che casino raga ok io cos'hai premuto devi attendere la risposta al programma ok abbiamo premuto attendere la risposta al programma ok vado a prendere un attimo che vi ho risposto di fai raga vediamo raga speriamo un miracolo chissà se dice premio alt a z fa tirare la screen premi i tasti gx per giocare raga non lo dice raga non lo dice minecraft è un attimo però da provare a premere io niente va a posto benissimo sono felicissimo è saltata la scheda grafica ok dai perfetto bello schifio chiamare il tecnico del teatro è giusto te la sostituisci però il computer gli deve dare il tempo perchè il computer è una macchina la macchina deve lavorare il processore il processore è mediradeon con una scheda integrata però il processore non gli dà il tempo di fare il suo il computer non gli dà il tempo di fare il suo iter il processore lo blocchi gli deve dare tutto il tempo necessario non è un computer veloce è una scheda grafica abbinata non è nato con questa scheda grafica è una scheda grafica abbinata dato che è abbinato gli deve dare più tempo capito ok raga questo video finisce qua se vi è piaciuto lasciate like e ciao alla prossima